Naturalmente dobbiamo fare un'analisi sul perché nelle grandi città non riusciamo a veicolare nello stesso modo il messaggio che invece ci viene molto più semplice veicolare penso nella zona della montagna o nella pianura. Per questo credo che sia l'analisi, in questo caso a differenza delle comunali di Bologna dove veramente siamo arrivati all'ultimo momento e non c'era neanche un progetto messo assieme prima questa volta io non posso che ringraziare per aver lavorato veramente assieme andando anche oltre a quello che veramente potevano essere accordi e non accordi, lentezze a livello nazionale di cui questa volta, magari anche per l'esperienza di quella prima, siamo andati oltre. Come ho già detto, io domani mattina incontro tutti e spero di incontrare, come ho detto Spoglio permettendo per iniziare a mettere tutti i punti che porteremo avanti, porteremo avanti come Dica e porteremo avanti come coalizione perché questo è un programma di coalizione.